Start, 2, 1, booster ignition and liftoff! Nel corso del 2024 io ho come data il primo gennaio ma credo sia indicativo quindi non so dirvi quando sarà esattamente ma sarà un gioco che da quanto dice Steam sarà anche in italiano. Ora nella versione Early Access abbiamo solo alcune lingue autogenerate come potete vedere qui, abbiamo una narrativa che include solo l'atto 1, alcuni elementi della Wii sono in work in progress e ovviamente tutto abbastanza limitato. Mentre invece per quando andremo a vedere la versione ufficiale quella Early Access includerà circa il 50% dell'avventura, 2 mappe, 40 edifici, 20 materiali diversi di produzione quindi sarà un bel gioco. Un gioco che mi ricorda tantissimo, Farters Frontier, possiamo scegliere uno delle province dove cominciare, possiamo vedere, questo non mi specifica cosa siano queste qualità però possiamo scegliere i colori ma non possiamo in questo momento ma la bandiera sì, prendiamo questo sole qui e iniziamo velocemente. Non me l'aspettavo di ricevere questo titolo e quindi insomma ve lo porto così come bonus di fine anno in modo da creare un po' di aspettativa per l'anno prossimo, è un gioco che appunto ho detto mi ricorda uno dei migliori rappresentanti dei strategici e dei gestionali, anche perché qui avremo delle battaglie con strategie in tempo reale, non credo la vedremo oggi però insomma vediamo le basi guidate dal tutorial, intanto il gioco sta finalizzando il caricamento e speriamo di non incappare in bug, c'è un tutorial, allora praticamente due mesi dalla caduta di Ada Aldamore, da quando hai recuperato i sopravvissuti e hai messo giù diciamo la nuova casa. Nisamore è il futuro, una terra libera dal terrore del passato, qui potrai costruire un nuovo regno guidato dalla fede dei consiglieri insomma, la tua curia, i tuoi consiglieri sono molto competenti, vabbè, alla fine tutto però in mano tua. Dove risiede il tuo interesse prosperità? Vuoi giocare al tutorial? Yes. Allora praticamente vedete qua abbiamo la mia caravana e clicco per farla muovere, posso cliccare, vedete la posso muovere e arrivato in un punto posso cliccare su deploy e quindi dispiego i miei cittadini che adesso, vedete, potrò scegliere, faccio il keep, lo piazzo qui. Intanto abbiamo un'occhiata a sequestrar più o meno la mappa di gioco, possiamo vedere intanto che i nostri cittadini stanno lavorando, quasi tutti, non è, come vi ho detto, completo quindi non vedo granché come menu, ma abbiamo l'event log, quindi tutti gli eventi, abbiamo il knowledge, praticamente avete work in progress, tante cose sono ancora bloccate e sono le specializzazioni che potremmo ottenere nel corso dell'avventura. Ok, poi cerco di uscire da qui, allora vediamo poi intanto abbiamo la diplomazia anche dove potremo commerciare, andare a impostare le rotte commerciali con gli altri, infatti le trade sono qui, vedete qua c'è tutta la mappa che avevamo anche all'inizio, qua abbiamo gli editti che potremmo stipulare e i lavori dei cittadini che al momento sono 10 costruttori e 10 non impiegati, quindi è la classica cosa già vista diciamo in altri titoli, ci si muove con WSD, si selezionano le aree, si selezionano i personaggi, c'è la possibilità di ruotare la visuale con QED o con ZX in grandiera, ovviamente io uso la rotella con cui mi trovo decisamente meglio. Possiamo accelerare un pochino i tempi in modo da vedere finalmente la costruzione dell'edificio, mi spiace che sia fatta così e non come in altri giochi dove si vede l'edificio pian piano essere costruito, ma va bene così. Intanto possiamo dare un'occhiata anche qua sotto, abbiamo la logistics, vedete una cosa che devo dire ha un immenso numero di risorse e di oggetti piazzabili, vedete tutte le... la capanna del tagliatore di legna, il pozzo e altre cose, quindi insomma di cosa da fare ce ne sono. Prossimo passo, creare una stockpile, ok, primitive stockpile, quindi andiamo ad accumulare il legname, lo mettiamo qui, si, spazio occupato, teniamo la velocità rapida anche perché non è un gameplay, insomma è una presentazione di questo titolo. Possiamo vedere anche graficamente carino, non va più di così lo zoom, ha un'area di influenza indicato dal bordo colorato intorno, tutti gli edifici cittadini in questi bordi sono, ok, influenzati dalle strutture. Con una stockpile primitiva possiamo cominciare a piazzare le risorse, i campi delle risorse, ok. Logger camp vicino agli alberi e courier camp vicino alle rocce, ok, quindi possiamo andare qui e fare courier camp, che non ho idea di dove siano le rocce, vediamo, si, potremmo metterle qui, mentre il logger camp lo piazziamo qui. Perfetto, per aggiustare manualmente clicca sulla struttura e aggiusta lo slider, quindi praticamente possiamo andare a... ok, perfetto, bella sta cosa. Quindi posso andare a prendere questa e allargargli l'area di influenza. Sì, sì, perfetto, ma praticamente questi edifici qui sono già stati costruiti, quindi praticamente sono già lì. Molto male questo, questo qui, però, ripeto, è un playtest, quindi non so deve. Construct a food market, quindi andiamo qui e costruiamo food structure. Lo piazziamo sulla strada, qui, vediamo se lo ruotiamo così. Ok, no, questi invece lo costruiscono, quindi qui ci vorrà del tempo. Tanto possiamo vedere che ci chiede legname. E diamo un'occhiata anche alle risorse, anche se ci sono legname, pietra grezza, mele, erbe, acqua, legna d'ardere, come Farst as Frontier, amp clothing e sidero. Perfetto, qua abbiamo la felicità, abbiamo il totale della popolazione e i contadini, quindi nel momento abbiamo 20 persone e tutte e 20 che lavorano ai campi. Va bene, va bene, intanto aspettiamo che finiscano di costruire il mercato. Questa è la sede del governo, può essere aggiornata. Vediamo, sì, intanto stiamo facendo questo, quindi poi ci servirà la farmer house, dove potremo andare a mettergli poi i campi. Questa è la carovana con cui siamo arrivati. Possiamo aumentare lo storage, è una sorta di storage al momento, un magazzino. Bello, ecco, ho appena letto. In effetti si vede che stanno costruendo, quindi molto bene. Prima non so perché non lo facevano, comunque qua hanno praticamente ultimato. Senza strade, grezze, insomma, le strade stradate, i tuoi cittadini soffrono un po' di più ad andare. Seleziona la logistica, build menu e trova, ok, il tool delle strade. Perfetto, quindi andiamo qui e selezioniamo dirt road. E quindi praticamente possiamo andare a piazzare le strade. Quindi piazziamo la stradina qui, così. Così. Ok, ci c'è di costruire anche un pozzo. Quindi costruiamo un pozzo, lo facciamo da qui. Lo mettiamo qua. È bello grande però il pozzo. Ok, anche il pozzo, la strada l'hanno fatta subito, quindi non viene costruita. Io sono un po' fissato su queste cose, ma in realtà le apprezzo veramente tanto quando c'è cura, proprio... Io di First Frontier, l'ho detto sempre, apprezzo il cambiamento ambientale dal terreno incolto all'arido, passando per, appunto, la città fatta e finita, bella da vedere. E vedere il prima e il dopo, cosa che tanti giochi di questo tipo non hanno. Perché, ok, il terreno cambia, ma non cambia più di tanto. Un sommario delle sue risorse è visualizzato in alto a destra. Sì, l'abbiamo visto prima. Clicca, seleziona... Ok, qui, infatti, vediamo. Le case provvedono a ogni classe, nel senso di sicurezza. Ok, perché poi ci saranno le varie classi. Costruisci almeno 12 Farmer House. Ok, 12 Farmer House. Bene, le piazziamo... Allora, ipoteticamente, potremmo una, due, tre... Una, due, tre... Poi... Ho il dubbio che mi facciano costruire poi anche qualcos'altro. Inizia settling. Ok, è iniziato l'evento. Il cancelliere Brody Declan. La soluzione è stata tratta facilmente, insomma, in stà. Senza la nostra persona, il nostro popolo, non saremmo arrivati fin qui. La loro resilienza dovrebbe essere riconosciuta. Potrebbe instillare con confidence e gioia, insomma, fiducia e gioia. Sir Osean, guarda... È vero, cancelliere... Ok, qua stanno parlando. Va bene. Va bene. Ok, make your choice. Posso scegliere uno di questi. Chiedo al cancelliere come possiamo aiutare le nostre persone. E qui continuiamo il dialogo con lui. Focalizziamo la nostra attenzione sul cibo, i rifugi e altre cose essenziali. Ok, ho scelto io come portare avanti il regno. Bella cosa questa. Quali sono i suoi pensieri, Luca? Sua grazia, vostra grazia. I nostri cittadini sono indebitati con noi. Per ricostruire... Ok. Ok, ho detto che non è tutto beneficio, insomma, è un investimento. Ma è gris. Va bene. Quindi, guadagni di 150. Ok, bello questa cosa ad eventi. È carina come cosa. Comunque devo costruire queste... Facciamo così. Continuiamo. 1, 2, 3, 4, 5... 5, 8, 10, 11, 12. Dovremmo averle fatte tutte. Voglio chiudere questo. Perfetto. Qua dice che non ci sono strade, ma le strade ci pensiamo subito, andiamo alla logistica e le colleghiamo tutte. Quindi facciamo da qui. Piazzo qua. Ok. Pensavo ci fosse già, invece, quel quadratino lì, quella lineetta, era qualcosa che non c'entrava niente. Lasciava forse lo spazio per un'ipotetica strada. Ma infatti adesso è sparita. Questa è una farmer house. Non le ho costruite una dietro l'altra perché avevo paura che mi facesse costruire i campi. Vedete che intanto, questo ricorda anche un pochino anno, ci sono i loro bisogni. E probabilmente poi più salirà la classe del cittadino, più ci saranno bisogni. Qui c'è bisogni di... Non si capisce cosa. Anche bisogni di lusso, insomma, ci sono tante cose. Comunque lasciamo andare avanti con questa velocità qui. Il pozzo, perché non va? Produce acqua. Posso aumentare un impiegato. Unemployed. Ah, perché devo andare a vedere i jobs. Posso aumentare e diminuire. Unemployed. No, adesso sì. Adesso stanno... Ok. È stato un attimo così. Adesso invece iniziano a produrre. Mi mancano due case ancora. Gli metto la priorità così iniziano a costruirle. Intanto stanno raccogliendo acqua dal pozzo come se non ci fossero domani. È carina da vedere. Sarà da vedere sulle cose più, più, diciamo, più avanzate. Anche se il discorso delle strade lo trovo eccessivamente geometrico. Ormai, purtroppo, di giochi di questo tipo se ne trovano veramente tanti. Questa è una feature interessante che è quella dei dialoghi con i consiglieri e la scelta che poi ci conduce a un bonus o un malus, una ricompensa o appunto una perdita di denaro o risorse. Ed è interessante, per quanto non sia originalissima. Però a me dispiace vedere ancora queste cose degli angoli retti nelle strade e non qualcosa di un pochino più... Insomma... Come altri giochi, insomma, che attendono nel corso dell'anno che viene. E niente, allora... Perché poi, qua abbiamo il laboratorio delle strutture, quindi abbiamo il laborer house. Ah, 60 farmer, ci chiede. La taverna, il craftman, l'artigiano, insomma. La cucina, il fishing dock, il trader sat, quindi per commerciare. Per fare gli archi e le frecce. Lo smelter per sciogliere i metalli. Blacksmith per creare utensili. Il vault, non so cosa sia. Una sorta di... Non so, cassaforte. Hunter's Lodge per i cacciatori. Abbiamo il Tanner per le pelli. Infermeria per i malati e così via. Qua abbiamo altri due tasti che non sappiamo cosa sono, ma non sappiamo neanche se arriveranno adesso in questa versione di playtest. E poi abbiamo le strutture militari che ci consentono poi, la carovana, l'armeria e le caserme, di poter andare ad avere i soldati e poterli selezionare in questo modo, cliccando e mandarli in un posto piuttosto che in un altro. Qua dice che non ci sono strade, quindi andiamo a costruire la stradina. La facciamo così. E qua mi continuano a dire che non riescono a finire la roba qui. Tra l'altro siamo al giorno 4. Sembra che le stagioni stiano passando. Flax farm. Ma posso andare a piazzare le farm così? Sì, ma non di flax, è sicuro. Il meleto. Vediamo se c'è qualcosa che si può mangiare. Facciamo un meleto qua. No, non me lo fa fare. Fai qui? Me lo farebbe fare? Sì? Ebbene, mettiamolo lì tanto. Niente, non me lo vogliono finire. Mancano dei log e rogstone. E le rogstone mi sa che forse mancano. No, c'è gente che ci sta lavorando costantemente. E in tanti ci lavorano, eh. Quindi devono solo portarmele a casa. Lavorate anche questo, grazie. Ah, solo a una struttura possiamo mettere il... Anche qua stanno lavorando. Stanno abbattendo alberi. Anche se gli alberi per il momento non li ho ancora visti cadere. Probabilmente ce ne saranno... Ce ne saranno per un bel po'. Sì, la costruzione è molto rosso lo stile anno, così geometrica. Poi per dire modelli in se sono, sono vero carini. Non ci sta andando proprio nessuno. Questo è un ponte? No, facciamo anche così, va. Facciamo così. Vedete che arriva così, ma non mi piace. Non mi piace questa costruzione fatta così. Poi l'odevole è anche il fatto che arriverà in italiano, ma sarà da vedere. Sarà da vedere quando uscirà, perché... Beh, il mio eletto me lo sta facendo molto bene. Però sono molto dubbioso su questo titolo. Bisognerà vedere a che punto porteranno la diplomazia. Cosa si potrà fare. Qua vedo che si può mandare i soldi, ricevere i regali. Mandare truppe, chiedere di mandarmi truppe, dichiarare un'alleanza. Io faccio declare an alliance. No, non va. Dichiarare guerra. Eh, non ho le strutture probabilmente per farlo. Questi non me li vogliono costruire, quindi... Io mi sa che farò altro. Le costruirò dall'altra parte. Mettiamola qui. Una lì. E una qui. E questa vedo se riesco a eliminarla in qualche modo, ma... Vedete che... Eh sì, me le costruiscono... Ah, probabilmente lì è troppo giù. Probabilmente. Comunque, vabbè. Sì, infatti stanno piazzando tutto. Le hanno quasi finite. Adesso siamo a 11. Adesso finiscono la dodicesima. E completiamo anche questa cosa del tutorial. Perfetto. Sì, non lo so. Esplora housing interface. Clicca sul tuo farmer housing. Prendi uno sguardo. Dai uno sguardo. Ok. La vita della struttura. La felicità. Danneggiata dal fuoco. Attacchi o rivoluzioni. Insomma, riottosi che si ribellano all'autorità. Insomma. E la vita scende. Poi andrà riparata. Gli residenti di una casa sono mostrati qui. Ok. In aggiunta al loro nome occupazione. Se i residenti hanno bisogno di... Se i requisiti sono raggiunti, insomma. O eccedono. Più residenti arriveranno in questa casa. Ok. Questo è il senso. Questi sono gli eventi. Fuoco. Attacco. Malattia. Felicità dei cittadini. Con le necessità. E il lusso anche. Riempiendo le necessità. Salirà. Ok. Anche la felicità. Ok. Finalmente qualcosa che merita di essere discusso. Le finanze. Quello che rifinisce il regno. Sommestà. Io credo che... Ok. Sì. Ok. Vieni che sono candidato per la tesoreria. Mi parla di classe nobile. Ti daremo una chance, consigliere qua. Ok. Non so cosa ho fatto perché sono andato via veloce ma... Clicca happiness on resource bar. Questa è la felicità. Le tasse riducono. La produzione diminuisce. E' aumentata la chance di malattia. E' aumentata la tassa di immigrazione. Praticamente più bassi siamo più succedono queste cose siccome è giusto che sia insomma. Se arriviamo a 20 o meno si creano le rivolte e va bene. Warming Earth. Praticamente dobbiamo scaldare i camini, i focolari. Costruisci un wood chopper. Ok. E costruiamo il wood chopper qui. E quindi qui inizia la nostra partita e va effettivamente nel vivo. Però ragazzi, questo è un playtest che tutti possono comunque chiedere su Steam. Non so, magari molti di voi l'avranno chiesto, l'avranno avuto, l'avranno potuto provare. Io rimango con qualche dubbio. Vedremo l'anno prossimo quando il gioco uscirà. Abbiamo visto proprio le basi basi. E non vedo assolutamente nulla di nuovo, se non questo discorso dei dialoghi per l'amministrazione del regno. Non vedo assolutamente nulla di innovativo. Non so il prezzo, come non lo sapete voi, nel senso non si sa nulla. Io come unica data, come vi ho detto prima, ho l'1 di gennaio, ma credo sia solo indicativa per dire che il gioco uscirà in early access quest'anno. Non c'è nemmeno scritto quest'anno, nel 2024, quindi tra poco. E non c'è nemmeno scritto quanto rimarrà in early access. Quindi staremo a vedere. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo videogameplay. Alla prossima e ciao ciao!